Una colata di massi accompagnata dal forte boato trascinati dall'acqua a seguito delle intense piogge di ieri è questo lo scenario che è passato davanti agli occhi della signora Raffaella fotografia che si ripete a pochi mesi dal 15 maggio e rinnova paure e preoccupazioni Ieri sarei sono rimasta qua, il fiume d'acqua e i fiumi di massi che venivano giù ma non solo da qua, venivano giù da là, attraversavano la strada, andava giù l'acqua di là e non piacevole, tanta paura Siamo nei pressi della fontana di Mossano nella strada dei Molini cartolina turistica tra ruscelli e natura nel cuore dei colli berici, sfigurata dal maltempo Due episodi come dicevo violenti con delle bombe d'acqua che hanno messo in difficoltà sia la località di Mossano, Barbarano con qualche smottamento e Ponte di Barbarano poi le frazioni pianeggianti che vedono strade allagate e ovviamente piani interrati sott'acqua Numerose le frane e gli smottamenti nei comuni della riviera Berica, del Basso Vicentino da Longare ad Agugliaro con strade chiuse per allagamenti come via Callisone, via Cassilvestre a Nanto altro comune che ha fatto i conti con le conseguenze del maltempo Abbiamo chiuso quattro vie che però non sono a Nanto ma guardano Ponte di Nanto perché c'è il problema del bisatto che non scaricava l'acqua questa notte e pertanto queste vie si sono allagate Sono due problemi diversi, uno causato dalle piogge torrenziali e dagli scaranti che hanno buttato l'acqua a Nanto e l'altro causato dalla mancata emissione nel canale bisatto dell'acqua piovana di Ponte di Nanto Violente precipitazioni che hanno provocato nella zona di Nanto paesi allagamenti alle abitazioni in via Barbaran Capra e De Gora dove per tutta la notte sono intervenuti protezione civile, vigili del fuoco e volontari del comune Dalle nove e mezza abbiamo visto l'acqua che nel giro di dieci minuti è iniziata a salire e niente ci siamo trovati l'acqua praticamente tutta in casa Il mare che era, l'acqua qua era tutta una Tanta paura Tanta, perché mi hai visto una roba compagno